Ecco qui siamo a Pomorie, guardate la barca turistica qui, siamo sul golfo laggiù si vede il suo zopo, c'è un po' la foschia, qua c'è Burgas e qui è tutto il golfo dei Pomorie italiani, mi piace l'Italia, grazie Bergamo, la città bella Lunedì lo cominciamo così, la settimana è sempre il 3 settembre, siamo sul mare, stacchiamo sulla barchetta, vi regaliamo un bellissimo tramonto, ancora il sole è alto però la situazione è questa, ecco qua, bellissimo, ciao ciao